Se c'è una cosa positiva, se così possiamo dire, dopo la sconfitta di ieri contro il Cesena, è che sto registrando questo video con amarezza, col pensiero che con un po' più di fortuna magari le cose sarebbero potute andare diversamente. E questa è una cosa molto importante. Io non sono mai d'accordo con chi dice che è meglio perdere 3-0 piuttosto che una partita in cui magari ha giocato meglio e che meritava di più. Perché è vero, nel momento in cui la vivi ti dà ancora più fastidio. Magari una partita dominata dagli avversari dici, vabbè, data così, buonanotte. Invece per un progetto a lungo termine, comunque, pensando alla partita successiva, secondo me è meglio che tu arrivi al fischio finale con il rammarico che poteva andare meglio. Sì, ti dà fastidio perché una sconfitta è sempre una sconfitta. Però per quello che ha fatto il Gubbio ieri sera sono comunque ampiamente fiducioso in vista delle prossime partite. Ora, nulla toglierà il Cesena che sicuramente è stato cinico, ha fatto due gol importanti nei momenti cruciali della gara, a parer mio, ed è stato anche questo uno degli aspetti fondamentali per la loro vittoria. Ma credo che il Gubbio meritasse sicuramente qualcosina di più. Dalla semplice sconfitta con un solo gol di scarto o magari anche un pareggio. Ecco, adesso io non dico che meritavamo di vincere, quello forse è un po' troppo. Però, guardando un po' le occasioni che ci siamo creati, quelle che hanno creato loro, i miracoli di Pisseri, tra l'altro ex della partita, credo che il 2-0 sia risultato ampiamente bugiardo. Perché vicino a livello numerico al 3-0 dello scorso anno, ma totalmente diverso per quanto riguarda la prestazione. Perché io l'anno scorso ero al Manuzzi di Cesena e fu un 3-0 senza appello. Ti dominarono dal primo all'ultimo minuto, tu riusciste a giocare con roba come 5-10 minuti del primo tempo e poi per tutto il resto fu un domino totale. E se uno guarda i risultati e dice 2-0, sarà stata simile. Invece al contrario, secondo me il Gubbio ha fatto un'ottima gara. Siamo sempre stati nel vivo della partita, abbiamo avuto le nostre occasioni, me ne vengono a mente in paio, due tiri a giro clamorosi di De Sogus con due parate altrettanto clamorose di Pisseri che hanno cambiato la partita. Magari la seconda, se fosse entrata, sarebbe stata probabilmente ininfluente visto che sarebbe stato un 2-1 a pochi secondi dal fisco finale. Però sull'1-0, quel miracolo proprio su De Sogus, secondo me, ha fatto svoltare la gara perché pochi minuti dopo è arrivato il 2-0 e lì sostanzialmente la partita è finita. Diciamo che dal secondo gol di Spending poi siamo calati perché ormai avevamo capito che la partita non si poteva più recuperare, almeno secondo me. Cioè, non per questo non ci abbiamo provato, è sia chiaro. Però comunque sta, come si può dire, una botta psicologica non indifferente perché comunque se ti sei ritrovato sotto i D2 gol a pochi minuti dal fischio finale e quindi ti sei messo un po' in difficoltà e nonostante comunque sia stato un gran gol lì magari Vettorel poteva fare qualcosina di più ma è stato un tiro potente e angolato e diciamo che non gli do piene responsabilità né sul secondo né sul primo gol che è un tiro a giro pazzesco di Adamo anche se forse un po' fortuito nel senso che da quella posizione l'ha presa in maniera strana cioè possiamo dire sbilenca ma ha trasformato e ha fatto una parabola imprendibile e lì il portiere non ci ha potuto far nulla io in diretta l'ho convinto che andasse fuori invece è andata proprio precisa all'angolino. Come detto abbiamo fatto una bella prestazione siamo stati nel vivo della gara dal primo all'ultimo minuto e abbiamo avuto le nostre occasioni non ho detto però nulla almeno finora per quanto riguarda la direzione arbitrale allora io con la Roma e con il Gubbio per chi non lo sa sono tifosi di entrambe le squadre e ho un canale per quanto riguarda la Roma che comunque vi invito a seguire Emanuele Grilli si chiama come me e non mi lamento mai troppo dell'arbitro o meglio mi sembra giusto sottolineare quando ci sono episodi gravi che compromettono il risultato metti caso vinci 1-0 sul rigore inesistente e io ho il sacrosanto diritto di dire che il rigore non c'era non vuol dire attaccarsi all'arbitro vuol dire analizzare la partita in tutti i suoi componenti cioè errori dei giocatori in campo errori del portiere errori degli attaccanti scelte giuste fatte da attaccanti giocatori portieri allenatori e appunto arbitro quindi io posso avere il diritto di dire sia che un arbitro magari ha fatto una bella scelta che ne so assegnando un rigore in diretta che nessuno aveva visto oppure una cosa di questo tipo ma posso altrettanto dire che per me se un arbitro sbaglia è giusto da sottolineare non dandogli l'unica responsabilità perché magari difensivamente parlando potevamo stare un pochino più attenti perché anche il primo gol comunque lo vai a prendere in contropiede ed era già il secondo contropiede che prendevi nel giro di 3-4 minuti ma la condizione arbitrale secondo me è stata totalmente a senso unico ora ci tengo a specificare una cosa per quei tifosi del Cessana che magari vedranno questo video io quando parlo di queste cose non vado mai a prendermela con la tifoseria o la squadra in questione cioè non è che se io dico che per me l'arbitro è stato totalmente a favore del Cessana me la prendo con il Cessana cioè la squadra non ha colpa alcuna ci mancherebbe altro però mi è sembrato poi magari posso sbagliarmi che l'arbitro fosse sceso in campo con un po' di sudditanza psicologica come a dire nel dubbio fischio sempre a favore dei padroni di casa ci sono stati almeno 2-3 gialli non fischiati nei loro confronti nel nostro caso invece ogni fallo che per carità in alcuni casi ci stava anche il giallo è stato subito segnalato e soprattutto nel secondo tempo c'è stato un rigore clamoroso non fischiato su Bernardotto a me dà fastidio perché la replay si vede in maniera evidente come il difensore non prenda la palla ma unicamente il giocatore e si vede ancora di più come l'arbitro aveva una visuale totale cioè aveva praticamente tutto aperto non è che dici c'era un giocatore davanti o dietro cioè si vede proprio che è lì davanti e nonostante questo decide di non fischiare il rigore io credo che quella sia stata una decisione presa dalla paura come a dire non fischi un rigore a sfavore della capolista padroni di casa e quei forti quest'altro lascio correre poi ripeto è una mia sensazione posso tranquillamente sbagliarmi però è stato un episodio che secondo me ha cambiato le carte in tavola perché come ha detto anche Braia tu dammi il rigore poi io lo sbaglierò come è sempre successo cioè detto così anche perché effettivamente noi i rigori non li segniamo quasi mai però almeno non abbiamo rimpianti cioè almeno non pensiamo che con quell'episodio le cose potevano cambiare poi con il pisteri che abbiamo visto ieri magari te lo parava e la teneva pure lì e ti faceva pure una pernacchia mo' per dire però intanto tu dammelo perché metti caso invece segno e poi vai sull'1-1 la partita può cambiare mentalmente le partite cambiano con un niente cioè basta un episodio basta una giocata basta un qualcosa che possa scatenare la miccia di una squadra e poi il risultato può andare diversamente magari sull'1-1 tieni botta e ti porti a casa un pareggio che tutto sommato era più che positivo quindi ecco mi dispiace perché questi episodi secondo me hanno influito magari non totalmente ma in gran parte in buona parte per il risultato finale di questa partita quindi perdiamo in trasferta credo che no non stoppiamo la linea di vittoria o risultati utili perché avevamo già perso Carrara anche quello non è stato un risultato positivissimo purtroppo ci sta alla fine non si possono vincere tutti ci mancherebbe altro siamo ancora lì in corsa per le prime posizioni domenica ci sarà uno scontro diretto totale contro il Perugia sarà un derby infuocato si aspetta il tutto esaurito o quasi ecco più o meno visto che comunque è da diversi anni che non si gioca Gubb Perugia con il pubblico l'ultima volta è successo nel 2021 ma purtroppo c'era ancora il Covid la partita era stata giocata a porte chiuse tra l'altro vittoria del Gubbio dopo 50 anni e passa quindi veramente è un peccato che non c'era la gente qualcuno dice che con la gente avremmo perso ma vabbè non lo sapremo mai quindi sarà una partita decisiva un'eventuale vittoria o sconfitta sicuramente potrebbe dire tanto di più del proseguo del nostro campionato detto questo ragazzi allora fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate ci vediamo presto per un altro video un saluto e sempre comunque forza Gubbio ciao ragazzi ciao